Mi è sempre piaciuto l'ambiente cinema, foto, ho fatto pattinaggio artistico per anni, quindi l'ambiente è spettacolo, mi piace. E quindi spera di entrare in questa produzione? Sì, è un piccolo sogno. In 400 in una sola mattinata a Porto Buffolet per il casting del film c'è anche domani, dedicato alla vita di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, amico e partner in affari di Silvio Berlusconi, scomparso nel novembre del 2021. Giacomo Campiotti, già regista di serie Rai come Braccialetti Rossi e La Sposa, vuole non solo luoghi ma anche volti del territorio. Al via dunque la ricerca di figuranti è comparse tra i 18 e i 75 anni residenti in Veneto. Prima tappa il comune più piccolo della marca, quindi nel pomeriggio Iesolo e mercoledì 13 Caorle. E cosa conosci della vita di Ennio Doris? Non tanto, sinceramente è un po' imbarazzante. Poi si imparano anche cose, no? Penso entrando. Assolutamente, questo è una cosa fantastica secondo me. A me piace imparare cose nuove e provare nuove esperienze e quindi sono qua. Siamo felici che gran parte sono qua della zona. Piace l'autenticità, per questo noi da stamattina che ci raccomandiamo con tutti i uomini, non rasate, non fate stitagli strani, poi ben accolti le donne con capelli naturali, le vecchiette. Mira racconta che da quando la sua agenzia è stata incaricata dei casting, il telefono non ha mai smesso di suonare. Arriva una persona e mi dice, Mira ma tu non sai proprio con chi hai da fare, qua siamo come i padri Pio del Veneto, cioè mi hanno detto anche questo. Porto Bufolei, suo centro storico fermo nel tempo, faranno anche da set agli anni della giovinezza di Doris, originario di Tombolo, nell'alta Padovana. Walter De Martín, consigliere comunale, ci accompagna a vedere gli scorci che faranno da sfondo alle riprese. Qui, nel negozio di Sara Canziani, in piazza, verrà ricostruito il bar. Quindi dovrete in qualche modo stravolgerlo. Sì, non lo farò io, lo faranno loro che sono più esperti. E a Sara, che di professione è sarta, è stato chiesto di mettersi a disposizione nelle giornate in cui si girerà. Se per caso c'è bisogno di una figura sartoriale per aiutarli, sono qua. È il mio lavoro e mi piace.